Un agente di polizia, travestito da Babbo Natale, ha fatto irruzione in un covo di bande di criminali a Huaral, in Perù. I criminali, sorpresi, non hanno posto alcuna resistenza. Due sospettati sono stati arrestati e sono state sequestrate marijuana e cocaina. Non è la prima volta che la polizia antidroga per Juana usa questo trucco. L'anno scorso il Babbo Natale poliziotto ha fatto sequestrare 100 buste di cocaina e circa 300 buste di marijuana.